Inimmaginabile, impronosticabile, inattesa. Il riferimento è alla classifica di Barletta e Team Altamura dopo 13 giornate del campionato di eccellenza. I biancorossi, partiti in ritardo sia con la preparazione atletica che con l'allestimento dell'organico, sono terzi in graduatoria. I murgiani, distanti 4 punti dalla formazione di Massimo Pizzulli e addirittura 10 dalla vetta della classifica occupata dai cugini del Gravina, devono invece rincorrere al momento un piazzamento playoff. Situazione, insomma, difficile da immaginare alla vigilia di questo campionato. Circa tre mesi dopo, è tutto vero, l'Altamura, che avrebbe dovuto recitare il ruolo di ammazza torneo, ha lanciato però chiari segnali di ripresa domenica scorsa andando a vincere a Casarano contro il Barletta. Tra l'altro esordirà il nuovo tecnico Onofrio Fino, che sarà affiancato in panchina da Vincenzo Lanotte, bandiera indiscussa del calcio biancorosso. È la gara più attesa, quella che si giocherà al D'Angelo domani a partire dalle ore 14.30, 90 minuti, che potrebbero consentire al Barletta, reduce da 4 vittorie consecutive, di confermarsi tra le grandi di questo torneo, in attesa di novità societarie, arriveranno già dopo la partita al massimo nella giornata di lunedì e dell'apertura della sessione invernale del mercato. Giocherà in trasferta anche la Vigortrani impegnata sul campo di Unella Staranto, che in campionato non riesce ancora a cambiare marcia, ma che ben si sta comportando in Coppa Italia dilettanti, come conferma il pareggio esterno di giovedì contro il Casarano nella semifinale d'andata. Piancazzurri chiamati a ritrovare autostima e punti dopo la sconfitta nel derby con il Barletta. Giocherà in casa invece l'unione calcio-biceglie, anche se in realtà il match con il Casarano è in programma sul neutro del Sampio, perché al Ventura giocherà il Biceglie di Serie D. L'undici di Mimo di Corato può e deve approfittare del periodo di appannamento dei Salentini, sprofondati a meno 8 dalla vetta della classifica e costretti due settimane fa a cambiare guida tecnica. Turni sulla carta agevoli per la vicecapolista Vieste, per il Mola di scena rispettivamente contro Castelaneta e Leverano in casa, la prima della classe, il Gravina, sarà di scena sulla terra battuta della Totoccezzi contro i Renovoli. Completano il programma della quattordicesima giornata, infine Bitonto-Grottaglia, Molfetta-Mesagne e Dottanto-Sud-Est.